ecco ci abbiamo iniziato ciao stefano ciao elena come state ciao ciao stefano come stai bene grazie alla grande vai raccontaci allora ho voluto fare questa sessione principalmente perché sentivo che avevo bisogno di imparare qualcosa quindi adesso i punti che ti elencherò hanno importanza minima tra virgolette diciamo che devono essere solo dei punti su cui seguire una strada penso che quello che riceverò oggi e va oltre questi cinque punti primo punto era a livello fisico diciamo ho rotto il menisco del ginocchio destro nell'agosto del 2021 è stata una guarigione lenta e difficoltosa tuttora sono ancora a casa non sto lavorando di base sento che ci simile ci sia il mio zampino perché per quanto amassi il lavoro che facevo iniziavo a sentirmi oppresso sentivo che avevo voglia del tempo per me e durante le vacanze estive fatto sta che mi sono rotto il menisco e adesso un anno che sono a casa ed è un anno in cui comunque ho avuto modo di riflettere a me stesso di staccarmi da tutto il circuito che che è la vita quotidiana insomma quindi nel negativo ci ho visto molto positiva in questo ma adesso sei guarito adesso sono guarito tra virgolette nel senso che ogni tanto da fastidio quindi hanno deciso che è conveniente che non faccia più il falegname posatore per non portare in giro pesi troppo alti in teoria per sempre sì però adesso comunque sto prendendo un'altra strada sto facendo inizierò a breve un corso per custode e manutentore quindi diciamo un tutto fare che comunque quello che mi piace perché per quanto amassi il mio lavoro era ripetitivo tante volte montare i seramenti tutti i giorni dopo un po scoccia montare la porta tutti i giorni scoccia invece cioè mi sono andato a infilare sta roba del tutto fare dove penso che cambierò e c'è proprio quello che voglio fare in qualche parole fare cose diverse durante la giornata senza l'oppressione di dire entro sera di finire dieci porti entro sera quindi penso che c'è ho scelto la strada che volevo dire il secondo punto è quella motivazione dei viaggi in solitario io come ho finito le superiori a 18 anni ho deciso di partire per l'australia da solo un anno e in quell'anno lì diciamo ho scoperto il contatto con me stesso cioè ho percepito me stesso per la prima volta però era ancora tutto molto confuso dopo sono tornato a casa ho lavorato ancora un altro annetto sempre con l'idea di quel viaggio di quanto mi avesse fatto bene intanto iniziavo a farmi delle domande cioè chi sono che cos'è la vita ci sono i miei genitori io mi chiamo stefano c'è tutte queste etichette che avevo attorno alla mente ho dovuto iniziare a capirlo la religione perché comunque è stato quando inizia a chiederti chi sei dentro di te senti che non sei un corpo che sei molto di più e purtroppo la religione ti dà tutte quelle mezze verità che siamo piano ti incastrano no quindi ho camminato anche quella strada si è stato ai 19 20 22 anni no ma le 22 dove sei stato invece stato in india quattro mesi sempre in solitaria sono arrivato al sud dell'india e l'ho viaggiata tutta fino a nord quattro mesi anche lì ho vissuto 33 settimane in un tempo a re krishna c'è suto pienamente quella che poteva essere la religione e per quanto la volessi capire la volesse accettare dentro di me sentivo che c'era una bugia più grande di tutta la verità e quindi ho sentito già lì che la religione mentiva e infatti dopo tornando dall'india nel 2015 scopri il tuo canale lì iniziai a sentire la verità di dire ok ecco perché cioè io mi sento io cioè non mi sento nemmeno creato cioè non penso nemmeno di essere stato creato né da niente non riesco accettare non riesco proprio a capire come qualcosa mi abbia creato cioè per quanto ci penso dentro cioè io sono il creato così ci siamo di una ferrari elena bello bello vediamo parliamo forte oggi ok tre presto punto era io ma perché proprio le scopri da solo no perché infatti la mente è bello il cervello è bello perché tipo ti dà l'opportunità di mettere in dubbio le cose che senti e di seguire la tua strada se sei centrato cioè se non ti fai influenzare dagli altri dentro di te la strada c'è cioè solo ricordare e ricordare chi siamo non dobbiamo scrivere niente il terzo punto è la sinistra dalla casa luce siamo a casa ciao ciao a tutti chiudiamo beh no ci sono le entità mentali da vedere poi facciamo un po di lavoro la sensazione di essere completo da solo che il terzo punto questo che non mi porta alla ricerca di un compagno al desiderio di avere figli diciamo che dentro di me ho capito che c'è l'amore su cui devo puntare la coppia interna maschio e femmina che dentro di me c'è la prima vera coppia che devo formare quella perché il momento in cui la mia il mio lato razionale va d'accordo con quello emozionale quindi pensieri emozioni stanno bene insieme a quel punto io sono centrato non sento vuoti da riempire all'esterno capisci però in seguito un po il discorso delle fiamme mi piace però una parte di me non riesce accettare che mi manchi qualcosa cioè vedo la fiamma come uno specchio non è questo non è mancare non è che non riflettere se stesso per aumentare la propria consapevolezza cioè il complementare essere complementari uno con l'altro è un tappeto è tutto in più che viene da fuori non riesco accettare come posso prendere un più all'esterno spiego questo diciamo che questo è un videogioco ci sono i vari schermi no chi aveva giocato i videogiochi sa che a passa uno schermo nuovo si diceva una volta cioè a un livello successivo questo non è neanche un livello successivo tu passi a un altro cd del gioco passi proprio a un altro videogioco vai a un mega livello e da lì parte un nuovo videogioco che ti permette di finire videogioco capito cosa vuol dire finire e solo cambiando il gioco però è un grosso salto quindi non è la coppia romantica la fiamma è la ps romana una romanticona lei mi piacciono tutte queste cose romantiche cioè il fatto che soffre perché ci vede il romanticismo dopo valore delle emozioni si possiamo analizzare questo aspetto ma nel turano e c'è qualcosa di tale che dice no devi star da solo va bene musica perché la musica mai parlato della musica no no perché la musica è un'altra cosa che mi fa entrare in contatto con me stesso cioè sento che quando metto la musica spegne il mondo fuori e guardo un mondo dentro c'è ho visto la musica come qualcosa di più come se non so le nostre esperienze in realtà sono una musica come se noi torniamo a casa ognuno con la propria canzone quindi non so ho visto questa cosa come se noi fossimo le note non so perché mentre ascoltavo la musica ho visto questa visione suoni i suoni sì ma anche le ci sono suoni uno strumento canti sì per piacere mio però tanto suono ho provato più volte suonare roba percussione ma la mia mente non c'è fa quindi o dovrà esercitarmi di più o non è una mia predisposizione poco importa ne conosciamo uno che suona la batteria no elena hai capito ok e che musica ascolti ma c'è la musica con cui entra in contatto con me principalmente musica che non ha parole quindi che siano suoni flauti o musica fatta pianoforte insomma questa roba qui mai dagli autori precisi va un po caro serena audi e poi tanti anche a caso insomma quello che mi capito ok quarto punto sensazione di fare la sensazione di essere noto cioè in questo periodo storico esattamente cioè non so come mai ma io ho questa visione 1990 2050 interessa cioè come se comunque mi sento nel posto giusto al momento giusto sento che sono qua perché era questo periodo storico mi dava più consapevolezza di tanti altri quindi penso c'è mi sento nel posto giusto questo sicuramente è che dentro di me sento che dovrei fare qualcosa di importante per me chiaramente ma non riesco a capire se sono già sulla strada nel senso era proprio questo la sessione il capire la vita questa era la cosa importante che dovevo fare o se invece era c'era ci fosse qualcosa più fisico letteralmente che dovessi fare e potrà aiutare sia me che altri magari perché al 2050 tu senti questa data e non so sentito questa data 1992 sono nati quindi c'è vedo costo in mente vedo questi 60 anni quindi non 90 ma 92 vedi ho emesso range così non regi mentali sono quei 60 anni sento che questi 60 anni sono quelli che mi servono ok e qui questa sensazione di insoddisfazione che comunque è transitoria quindi cioè può essere legata alla mente che comunque c'è la vita un'onda non si può sempre stare su questo lo capisco e penso che una parte è legata un po al mondo che ci circonda perché non so come dire io sono positivo sul mio futuro però sul futuro del pianeta un po' meno perché questa cosa mi disturba un po' anche se so che alla fine noi cambieremo il gioco e ce la faremo e parte dell'insoddisfazione forse è legata al punto precedente proprio questa cosa di non sapere cosa che l'importante devo fare principalmente questo e i nonni come disincarnati internati esatti nonni poi io volevo fare un controllo sulla casa i gatti a due amici piccoli 22 se uno c'ha 11 mesi 15 praticamente sono due fratelli è rimasta subito gravi dalla mamma se riuscivo a trovare qualcuno che li voleva la prima posizione elena e la perché arrivi non capisco l'esperta di ma si adesso i gremlins per realizzarla la mia figuratiere di noi due volte più l'altra ho capito più niente va bene stefano iniziamo io vedo l'ora iniziamo una cosa c'è mi raccomando elena non voglio risparmiarmi oggi mai la bella di elena non sono spagna però noi facciamo un bel lavorone gigante benvenuti nella ferrari ti disattivo il microfono se hai bisogno di scrivermi qualcosa cioè la chat e io leggo poi anche scrivermi cose tue personali perché non si vedono in video di disattivato il microfono il rilassati hai già fosse avuto modo di connetterti a stefano conto 5 4 3 2 1 dimmi come lo vedi allora lui vestito come se dovesse come se arrivasse da c'è tipo vestito posso dirti è come se avesse appena fatto fosse appena uscito dal bosco ma stava lavorando dentro il bosco ecco e vedo che arriva verso di me e trascina con delle corde 6 oggetti ok tipo come se fossero 6 lattine vuote tutte sporche di fango e dice fammi vedere la strada e queste vengono con me è come se lui il messaggio che mi fa vedere che vuole andare avanti vuole andare dritto verso la sua consapevolezza ma queste sei cose devono venire con lui 6 lattine detto si vediamo la prima lattina la mamma seconda lattina c'è un bimbo piccolo secondo me è lui bambino interiore terza mi fa vedere come se fosse una strada che unisce tutti i suoi anni di vita finora le cose più fondamentali da quando è nato ad oggi e questa linea qua il suo percorso se più un insieme di ricordi 4 mi fa vedere come un quadrato che simboleggia come se fosse la sua casa ma non la sua casa ecco il posto dove stare accudito 5 è una nuvola una nuvola con cui lui può volare può svagarsi 6 se invece tipo una ruota che lo tiene sollevato dal terreno dove lui si può sedere e lo tiene sollevato dal terreno mi dice ruota di che tipo tipo un copertone messo come dovrebbe stare con una macchina verticale no orizzontale orizzontale come ciambella sì e lui è di sopra sopra gambe incrociate no se si 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 siede sopra se lo tiene se il palazzo al terreno dice ma non c'è il cerchione con copertone no no è solo copertone quindi il centro del suo corpo è separato dal terreno da uno spazio vuoto che al centro della ciambella e perdone se scrivimi stefano il tuo genitore sono vivi se uno il papà solo no no scusami non ho capito sono tutti e due vivi ok se vuoi scrivere qualcosa sulla mamma perché non abbiamo parlato a scrivermi quello che vuoi se questo è un telefono computer o un tablet computer e quindi non hai difficoltà va bene vibrazione di stefano 29 miliardi per il percettuale di consapevolezza 183 ps 41 vite precedenti 1628 capacità mediani che cervello allora ci sono mi fa vedere dei picchi io sapevo è come se salta è come se salta da io non so perché l'inizio della sessione che vedo delle capacità mediane che fuori dal comune non so stesso coi picchi barattri diciamo con su giù su giù è esatto giù c'è va tutto giù va tutto su va tra 8 e 4 12 e 6 che 8 e 4 non è che fa schifo no però non è un suo giù più giù il suo giù 12 6 bene c'è durante il giorno proprio bene vabbè le vite non fanno impazzire la ps non è tanta adesso però 29 miliardi di apertura e questo fatto delle capacità mediani che già è molto interessante entità eteriche allora ce n'è una c'è questa entità eterica che che non è sempre attaccata a lui in questo momento non lo è ma è come se si nascondesse dietro un angolo di un muro e sporge è una maschera bianca con un cappuccio nero come si chiama zara vot secondo primo ma un insetto adesso esce tipo come si chiama non so se tu stanno come detto insetto stecco no è più cicciotto però c'è tipo un guscio c'è a un colore o nato le otterra più lungo e più lungo tipo hanno un sacco le forme con le otto con le otto allungato che perché si nasconde con una maschera un cappuccio adesso l'ho fatto adesso ma anche a lui è come se se si come se si volesse ecco camuffare da secondo universo per farci paura poi allora vedo che sopra di lui c'è arrivato zeus che lo comanda che guarda dall'alto se tutto funziona ci sono due dl e poi entità mentali vediamole ce ne sono due due e mezzo due e ce n'è una che tipo non si vede bene nel senso è quasi un po che scompare si vede solo un po in trasparenza ecco invece due sono belle chiare una di livello 3 allora direi che questa stefano c'è dopo la sessione dovrà prestare attenzione nel senso che a volte questa entità mentale fa sì che lui riesce a fregarlo riesce a convincerlo che sulla strada giusta per per alcune cose in generale lui lo è molto collegato con sé ma a volte riesco questa entità mentale riesce a fargli riesce a fregarlo tra virgolette nel senso fargli credere che quella che l'entità mentale vuole fargli vedere sia la strada giusta ok proprio per alcune cose piccole c'era un nome deragliatore proprio lo fa deragliare lo spinge su un binario parallelo poi e poi c'è questa entità mentale di livello 6 sì allora come se gli mette è legata a una nuvola direi la chiamerei preconcetto ok questa nuvola e poi c'è questo muro tutte le volte che lui arriva qua c'è questo muro e quindi lui torna indietro torna indietro nel senso non va in quella direzione è come se quando arriva qua è come se lui si convince cioè convinto che oltre non c'è niente quindi non guarda in quella direzione lì ci sono alcune cose che lui è convinto di averle viste fino in fondo di aver finito invece c'è ancora un mondo desidero esatto come si come le vedi queste entità mentali partiamo dalla classe che alcune che vuoi la tremola se poi vediamo quella mezza quella trasparente sì allora la 3 è come se ci fosse una specie di faccia solo solo la faccia in rilievo che guarda verso il basso ok sopra stefano ok e quando guarda stefano in eterico vedo proprio che chi mette come una una stecca per terra ok che lo spinge mentre lui cammina lo spinge di fianco non lo fa andare sulla strada che lui stava prendendo ok proprio lo sposta un deragliature di binari sì esatto e l'altra invece è una nuvola sopra quindi secondo me è legato anche un entità mentale collettiva c'è questa grossa nuvola grigio bianca ok e da cui parte questo muro quindi è come se fosse altissimo quindi lui non vede neanche diciamo non gli permette neanche di vedere che c'è della luce dall'altra parte per lui finisce lì quando arriva contro questo muro per lui è arrivato alla fine di quella cosa lì è andato fino in fondo secondo dovrebbe guardare oltre la musa volante la sua nuvola che ha fatto sì certo assolutamente e quella che va e che viene che l'età 5 ed è quella legata al fumo però è molto inizia essere molto esatto perché la vedi trasparente spiegami ecco la vedo trasparente perché è consapevole stefano consapevole che c'è e la lascia ecco la differenza è quella è consapevole che c'è e non la manda via c'è ok mentre le altre quando uno non consapevole o non di solito se secco di solito cos'è se consapevole elementi via quindi non ci sono più oppure non sei consapevole quindi sono belle vivere senti questa è la via di mezzo perché stefano è consapevole e la lascia infatti già parlato nei punti il punto del fumo non ve l'ho messo perché non vi insulto lì dice giustamente come volete se voglio smettere smetto questa è una spiegazione al proprio va bene nome del progetto attuale di vita di stefano li vedo molto il nome potrebbe essere specchio riflesso li vedo molto molto attenti cercano di non perdere mai l'attenzione verso stefano perché se perdono una minima occasione di interferenza lui è libero preferenze brutte e cattive va bene non vogliono perderlo ricoloso noi abbiamo evoluto la nostra ricerca dell'entità non ce ne frega niente perché sono state create da stefano per capire delle cose quasi anche neanche quasi neanche della ps della pie ci porta molto perché a volte la ps molto ingenua vero falso perché non è proprio così ingenuo noi siamo la nostra ps chiamiamola come si chiama mi dice bolla blu e la p e riflesso rosa lui rosa sono due molto allora la ps bolla in quel momento mi ha fatto vedere bolla ma realtà e lei è la sua ps molto è un po quasi come l'acqua e blu ma la sua ps quasi come se cerca di intrufolarsi nelle esperienze mi viene da dire filtra un po come l'acqua va ovunque diceva anche l'acqua insomma ti scopre la fuga che non è visto anche si esatto elettronico e la il riflesso rosa perché riflesso e perché rosa riflesso perché riflette all'esterno i movimenti della ps ed è rosa rosa quasi come se riflettesse la luce esterna e della ps mi dice impianti sì allora c'è questo impianto mentale che è un disco piatto così che unito a una barra in mezzo no come se fosse il diametro di questo disco e mezzo parte un una bacchetta ok ed è all'interno della testa ok questa bacchetta è agganciata a questo specchio riflesso che vedo che poteva tiene stefano quasi sempre sull'attenti da dire poi e poi ci sono solo due barrette all'interno dei piedi all'interno tra la pianta l'intero all'interno ok sia destra che a sinistra e vengono utilizzati soprattutto dall'entità mentale il numero 3 di livello 3 per spingerlo dove lei vuole bastano ce ne sono altri minisco destro causa esoterica dell'infortunio e della difficile guarigione e delle conseguenze sul lavoro che va cambiato l'ho visto già prima quando parlava lì ha avuto una grande soddisfazione in quel momento prima che si facesse male è stato in grado di fare una cosa per lui importante che aspettava di fare da tempo ok il corpo come dato in soluzione direi io nel senso che in quel momento è andato in soluzione dopo parecchi mesi di fase attiva si dice ok quindi ha ceduto e ha ceduto cedendo si è rotto il menisco ok la lunga ripresa e straccia in realtà poi dopo passate le prime tre settimane direi due mesi dopo il ginocchio era posto a livello fisiologico all'inizio vedo che stefano niente la presa come una cosa seguire no che sto a casa non posso lavorare ok mentre lì direi tre primi due tre mesi si è reso conto di quello che voleva fare veramente era come se quel momento lì si è accesa una lampadina dice ma in effetti sì questo tipo di lavoro ma se più creativo più vario a me piace di più ok e quindi è come se avesse lui insieme alla ps avessero prolungato questa ripresa questa convalescenza per trovare veramente quello che voleva fare quindi alla fine quello che lui ha visto è quello ma diciamo l'episodio scatenante è stato da qualcosa che lui è stato in grado di fare che non pensava di riuscire a fare ma nel concreto o un passo importante che lui non riusciva a fare che è riuscito a fare da solo con le sue forze va bene poi contro dei suoi due viaggi in solitaria 19 22 anni australia allora sono più pro allora però assolutamente vivere è quello che dicevo prima non la sua ps è proprio che si infila nei meandri e quindi cosa fa va a vedere con la pratica con l'esperienza cosa vuol dire una certa cosa stefano si fa una domanda si centra con la ps la ps lo porta a trovare la risposta nell'esperienza e quindi a vedere com'è la cultura australiana magari ne aveva sentito parlare in australia si vive bene vado provo che non mi fido di quello che dicono provo io l'india ti fa spirituale viaggio in viaggio in india no quindi lui se l'è fatto vissuto la cultura e tutto per rispondere alle sue domande la cosa contro che ho visto che vedo è che è come se prova descrivere l'immagine vedo stefano che guarda una eventuale compagna che in eterico ok ed è come se fosse congelato è come se vorrei che tu rovinassi il lavoro che io sto facendo si dice o che dice a un eventuale compagna il lavoro che sto facendo su di me ma questo all'epoca dei viaggi no è quello che gli è rimasto dai viaggi quindi questo ma la quale di due tutte e due tutte e due perché lui è riuscito a entrare tantissimo in contatto con se stesso allora sì diciamo a livello pratico l'australia e invece a livello più spirituale l'india ok come se si fosse convinto che come se lui vedesse no proprio si mettesse la prova guarda un'altra un'eventuale compagna ok la guarda come se lui si sentisse di abbassare di vibrazioni e quindi non può andare in alto verso la sua autorealizzazione se questo è un suo mentale come se fosse una sua paura sì qui c'entra l'entità mentale di livello 6 tutte le volte che lui fa guarda questa cosa mette davanti il muro ok quindi lo dice ok è così è sono arrivato alla conclusione ecco questo è uno degli esempi si e hai risposto praticamente alla al punto treno solitudine completezza nella solitudine scarsa voglia o paura di avere una compagna dei figli una famiglia si aggiungerei una cosa il preconcetto è che sia la necessità di coprire un vuoto quindi preconcetto dice sì è così quindi lui non va verso un eventuale compagno in realtà l'esperienza secondo me da quello che vedete in eterico necessaria è una volta che sei completo ok sperimentare l'uno nella dualità c'è sperimentare l'uno in una parte fisica che va oltre il tuo fisico e quello è il passo successivo quello è la fiamma ed è anche quello più arduo perché si deve essere vivere l'uno e si è complesso decisamente l'ho detto fuori davo dentro la registrazione quella del cd del videogioco detto dentro e vera dentro tra l'altro no fuori 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 che era interessante no e stefano diceva ma la fiamma non so bo babbi è una complicazione è come in realtà se stessimo giocando un gioco oggi giochi sono un dvd un cd no e nei vari giochi ci sono sì certi livelli fino a che quel cd lì è finito in realtà poi c'è un altro cd che è il gioco finale di quella saga diciamo di quella e bisogna cambiare il cd quello è l'avventura della fiamma e anche lì ci sono dei livelli quindi sono la fiamma 12345 ma lì si finisce veramente il gioco ecco il cambio cd è già molto arduo stefano non ha ancora cambiato il cd no vuole cambiare cd esiste il nuovo cd di stefano esiste la sua fiamma sì è trasparente insomma dire è solo un velo è solo va bene che idea che mi è venuta facciamo costruiamo una casa stefano mi ricorda tanto il concetto di casa e poi uno dei suoi sei delle sue sei lattine la casa la numero 4 la costruiamo insieme agli anzi lui la costruisce una casa archetipo un po la casa di mangiare pianse le grete 4 bay belle pareti di marzapane è un pavimento di marzapane un tetto spiovente di marzapane rosso la porta è una finestra la casina cubica il tetto a cappuccio questa è la sua casa e questo è il mondo di stefano del potere di steve dentro c'è il potere di stefano della creazione entriamo nel mondo della creazione di stefano improvvisamente questa casa dentro che sembrava da fuori tanto piccola dentro è infinite messa fatte già così vista così se non si vedono ste cavolo di pareti di marzapane all'interno sono lontanissime più ci si avvicina più si allontanano e non c'è la fiamma ok lui l'ha creata così trasparente se dovesse darle una forma più precisa come la creerebbe con quali direzioni infinite già bozzate allora lui a questa capacità riesce a unire i puntini e le linee delle cose e dei concetti quindi quello che sta facendo è sta unendo i puntini dell'essenza della fiamma della sua fiamma è come se c'è questa immagine questa figura di questa donna ok e oltre alla dalla figura ok sta unendo i puntini della sua essenza della della delle caratteristiche aggiuntive di crescita per stefano ok è come se lui allora li riesce a farlo ok quindi questo è l'essenziale che a lui serve serve che una compagna l'eventuale compagna la sua fiamma abbia le caratteristiche che a lui servono per crescere ancora di più ok ed è la fiamma in realtà è questo nel senso che sperimenti l'uno nella dualità ok quindi è quella parte dell'uno che da solo non puoi conoscere ok perché all'esterno ma fa sempre parte dell'uno è proprio la parte che ci porta a capire a sperimentare che tutto è uno perché finché lo viviamo solo all'interno non lo possiamo imparare in questa stanza in questa casa con dove stefano lo vedi o non c'è no fa parte di tutto e la casa esame lo spazio intorno all'interno esatto stefano è creazione sì esatto ma lo percepisci lo siano percepisco le percepite sono dentro stefano bravo esatto quindi mi sto muovendo senti una densificazione che questo è palestroico senti una densificazione alcune parti della stanza per esempio lì dove vedi la creazione insieme la fiamma se come la fa lui la densificazione secondo me è la sua capacità medianica che possiamo andare a vedere più approfonditamente lui rende denso unendo i puntini e le linee e quindi da la densità è come se creasse il contenitore no per prendere la materia più densa le molecole più vicine credo che continua a mettere piante delle piante nutrono lo nutrono lui ha nutrito dalle piante se le piante lo scambio di energia stefano non c'è su vera il viso a una casa ricca di piante legato alla natura al legno bene che crei la sua fiamma se vuole alla fine non ci interessa sapere se alta bassa bionda mora può creare questa parte della sua casa la forma di portare per passare al livello finale del gioco ed entrare in una nuova casa sì lo vedo che come se deve dire all'entità mentale il livello 6 di stare zitta perché lo distrae ma lui non è servo dell'entità mentale a chiederle dirle lui deve decidere se quell'entità mentale gli serve ancora o non gli serve più anche questa entità mentale ha dentro la sua casa creazione rimettiamocela dentro vediamola come nella prima casa ma quella dell'inizio come la vedi e fa era una parte era una parete della casa legata a questa nuvola poi importante se preferisce potrebbe iniziare a staccarla dalla parete della casa la parete esiste sempre ma non è più un entità mentale quindi la isola digli di prenderla in mano di toccarla oggi siamo molto avanti e non facciamo una musica classica sì cosa ne fa è una tavola sì a realtà la prende in mano e dice tanto leggera che quindi vede la ok lui può fare tutto può passare un dito su questa tavola un po come se fosse uno schermo tattile di un telefonino bassare alzare il livello dell'entità mentale può anche alzarlo farò diventare 9 ma 9 poi io non scappo più dopo i 9 no lui la alza la bassa 0 1 0 1 2 3 5 6 6 come la lasciata poi prova 7 8 cosa succede diventa molto pesante ora vede che se l'altra diventa molto pesante e rigida se la bassa quasi sparisce cioè non si vede più domanda gli serve o no questa entità mentale rende conto che no cosa ne vuole fare la sta tutta pieghettando già aperto il portale definitivo e la sta lanciando dentro perfetto oggi non abbiamo bisogno della del cluster il tutorial del tutorial bene la 3 dove ma realtà la 3 era quasi come se l'avesse già messa da parte non la butta non aveva potato che ma mentre lavoravamo non era proprio influente ne ha bisogno o no 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 ok mi aspetto da lui la massima creatività nuovo sistema lo inventi lui no portale aureo no definitivo scusa no a cartuccia che è nuovo sistema lo inventa lui perché a questo eco cosa cazzo vogliono copiare alla veretta vai ha fatto fa fa il contrario di quello che fa per creare la sua realtà quindi in un attimo c'è passava la mappa ha passato la mano così ok si è disgregata ma praticamente si sono staccati i puntini e le linee che univano i puntini così solta fumo dove a questo momento era molto lontano andiamo a cercare la chiamata arrivata per comporre scomporre noi stiamo scomponendo una scomposizione esatto è un gioco lui usa i suoi balocchi li usa li crea sono pesanti sono ma danno un insegnamento progredisce poi non gli savano più giocattoli che non savano più si danno via si butta non si regalano si riciclano che ne fa ma se facendo uguale risolvente questo sistema non vogliamo si nuovo deve dimostrare sempre a se stesso di essere un creatore esatto ok allora creato ha fatto come se fosse arrivasse una fontana dal dalla terra ok che spazza via le cose ma in realtà non era acqua ma come aria aria che dissolve le cose quindi adesso proprio ha fatto è arrivata l'aria che ha dissolto questa entità mentale non ci sono più entità mentali no bene ne creiamo una quarta ne crea una lui con il gusto di frega di crearla e poi si vuole a distoglierla storia distruggerla depressione in sicurezza una qualunque entità mentale abitudine si era messo era del passato è quello che nella famiglia quello che gli era stato quello che aveva visto nella famiglia la routine e l'abitudine apparteneva al passato non oggi bene quindi non è neanche andato e anche fosse più l'insegnamento maggiore si è preso una vecchia che non c'è più la ricreata chi livello 2 che aspetto sono dei paletti sempre di metallo usa tanto metallo sono dei paletti di metallo regolari che lui vive tra i paletti quindi così bene può toccare di paletti la alza la bassa la rende pesante la rende leggera allora se la rende pesante si sente soffocare dalla routine dall'ansia che tutto sia sotto controllo poi se la bassa si alleggerisce riesce a respirare differenza proprio l'assento anche io la sua la lasciamo questa qua ci siamo intera un nuovo sistema per eliminarla questa che addirittura lui ha ricreato per il gusto di ricrearla come se avesse una bacchetta e fa così mentre fa così tutto si dissolve benissimo sta imparando tante cose metta adesso il cinema fuori dalla sua casa è una parete della casa quella di fonte al cinema quindi chi viene nel cinema vede direttamente quello che ha fatto è quello che farà dentro la sua casa creativa mamma papà i gatti e tutti quelli che vogliono venire vivi è arrivata la fiamma da solo che è più trasparente quindi no e lei si vede dentro la casa la casa e lo spazio delle creazioni pura si unisce la sua idea di creazione pura quindi c'è una zona in più non ho capito e la casa di stefano c'è una zona di pertinenza di questa ragazza si la dependa su aumenta il volume non è quadrate tipo più conteggiante si ha smussato i spigoli dello spazio l'azione di stefano se la crea della creata una sfera o una casa è fatta a cupolette sì esatto ogni lato del cubo è una cupoletta e cicciotto un po di più soltanto e cupolette va bene mamma che fatica 1990 2050 sessantennio idea convinzione di far di dover far qualcosa di importante in generale causa esoterica di questa idea no più che un'idea allora io vedo che questo tra il 1990 e il 2050 lui ha la possibilità di fare le esperienze più attive più impegnative più intraprendenti ok farle anche se a lui sembra che tutto quello che fa poi impara subito tutto in realtà è come se dovesse fare cioè quello che gli fa aspetta di me allora il pensiero che lui ha tra il 1990 e il 2050 lo porta a fare esperienze ok che lui pensa di diciamo la sua ps lo porta a fare tante esperienze quelle più proprio attive esperienze tante e grandi e lui ogni esperienza pensa di aver raccolto tutte le informazioni in realtà per la ps è un accumulo di esperienze e poi diciamo nella vecchiaia tra virgolette dai 60 anni in poi essere un po più statico e tirare le fila delle esperienze per la ps è questo l'obiettivo quindi questo qualcosa di importante per se stesso sì sì tutti pensano sempre di essere un rivoluzionario che magari lo sono proprio perché lo sono per se stessi esatto se diciamo quello è il canale per esserlo per se stessi c'è ma è la sua parte subliminale che lo spinge in questo sì sì non ci sono entità mentali no 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 causa esoterica della costante insoddisfazione allora lì erano le entità mentali soprattutto la 3 infatti questo che faceva quando lui quando c'era il piccolo cervello su giù su giù se andiamo a vedere spesso può coincidere anche con un abbassamento un alzamento delle emozioni delle vibrazioni delle emozioni quindi positive e negative ok spesso coincidono molto quindi la l'entità mentale di livello 3 quando lui andava giù ok prendeva l'occasione per tenerlo in un'emozione negativa il più possibile per tenerli e vibrazioni basse quindi lo convinceva che era insoddisfatto in realtà se lui si vive profondamente questo momento di down che anche prima l'aveva detto adesso non ricordo che ha detto ma non ricordavo più se lui si vive profondamente proprio il down c'è sente il down ok questa è l'esperienza vera e farà picchi sempre più alti poi ma è come se alzasse sempre di più l'asticella c'è la differenza sarà sempre uguale ma sempre più in alto che è un sistema molto matrix per imparare questo 6 per arrivare al picco devi sperimentare l'esato il baratro ma in qualche modo la realtà è ondulatoria è decisato nasciamo perfetti arriviamo qui siamo imperfetti ci sta quindi anche più soddisfazione c'è ti fa vedere la dualità e l'esperienza siamo qua apposta quindi capisci il tanto positivo sentendo anche il negativo se no non riesce a impararlo ecco questo però quando uno conosce la fiamma non avviene cioè c'è si fa pace ma ma il livello è differente livello è differente il cd è differente sì perché tu senti quello che sente l'altro quindi sei non sei altro è tutto un'altra dice non è paragonabile è un altro meccanismo cambia completamente il meccanismo è un altro cd il gioco diverso la console cambia la più moderna è l'ultima l'ultima console ci vanno solo dei supporti nuovi decidi particolari fatti in un certo modo molto grandi molto piccoli quello che vuoi e cambia il cd non se ne sta rendendo conto stefano cosa succede in questa scatola pazza della sua casa creazione ha deciso di prepararsi all'esperienza tenocidi se si sta vuole attrezzarsi con il nuovo lettore cd per il cd più avanzato il film final step vibrazione adesso di stefano 879 miliardi in questo momento ci sono ancora le entità mentali ci sono ancora le entità eteriche l'insetto 2dl non c'è già più niente come se fossimo andati al cluster l'impianto no 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 vibrata altissima stiamo arrivando altissima bianco chiamiamo i due nonni materno paterno e tutti i parenti di stefano tutti quelli che lui vuole chiamare di quelli della sua zona di quelli delle sue vite passate si sono disincarnati sta facendo una cosa particolare con 879 miliardi allora si è avvicinato ai nonni fluttuando vola volando praticamente quindi a vederlo è praticamente luce bianca ha messo una mano dentro i nonni uno da una parte una dall'altra dentro gli sta trasmettendo la la pic diciamo quello che sarebbe la vic ma così quindi si sono alleggeriti della loro esperienza di vita e adesso sono neutri e sono solo l'energia della ps che frutto ci vogliono lasciare tutti e tre dei messaggi si passano delle onde di informazione scegli un'onda verso stefano del materno del paterno ma e sono solo loro o ci sono anche o dietro ci sono tutti gli altri però sta facendo questa cosa con loro due materno gli dice come informazione gli passa impara a tenere impara a trattenere l'informazione che vibra alto delle esperienze e a lasciarla solo come ricordo l'informazione che vibra basso quindi come nutriti si aumenta diciamo la massa della tua ps trattenendo l'informazione che vibra alto e l'informazione che vibra basso mantenerla come ricordo così la rosa riconoscere ecco non lasciarlo andare perché siano tutte le volte ricominci a questa cosa particolare gli ha detto quindi slegato dall'essere nonno sì in generale materno il paterno e sperimenta la vibrazione dell'unione un po in generale c'è da dalle relazioni con le persone sperimenta la vibrazione dell'unione li abbracci l'unione di intenti ecco va bene quanti sono i parenti di stefano 378 e in totale 1396 persone di tutto si incarnati vabbè tutti nel portale aurea come oggi sempre uguale o diverso allora colore più rosa più intenso quasi fucsia e poi non mi appare come bolle come mi appare di solito ma è più un flusso poi se entri la consistenza la stessa perché poi dopo diventa tutto quell'energia lì ma se guardo da fuori mi appare in questa maniera oggi più rosa più intenso e più un flusso dovuto questa vibrazione molto alta se lo chiudiamo ok vibrazione finale mille ottanta miliardi vibrazione finale tra un giorno tra un giorno sarà 528 nella vita normale nuova consapevolezza e sarebbe il suo barato no 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 è un po lo strascico suo baratro allora vediamo adesso il suo baratro potrà rimanere a 100 miliardi se riesce a mantenere triste se quando viene l'influenza se stassi questo livello ok consapevolezza 216 ps in questo momento è 83 le vite 901 e la in questo momento la percentuale di cervello 16,5 ma cosa può fare con questo 16,5 volendo adesso spostare gli oggetti c'è vedo l'immagine che mi fa vedere in eterico ma così risposta ma risposta in due scucia e quale sarà la sua il suo livello medio diciamo meteo di tutti i giorni meteo 10 10 e 5 e è tantissimo no oggi è nato un creatore non ce ne frega niente di quanto sono preoccupate le entità i capi i falso creatore il primo il secondo demiurgo non ce ne frega niente oggi abbiamo capito tante cose e c'è la casa che non a caso è stata inventata come casa perché la casa porta alla casa cosa fa la madre nel cinema è molto contenta ma un pezzo alla volta dice così tutto ad un colpo e troppo da assimilare però contenta ma ecco è stata qualcuno in altre vite di stefano ci sono già incontrati li vedo a braccetto allora direi sentono al 600 quelle le popane nel 621 quell'anno precisamente li vedo a braccetto erano marito e moglie lui marito o lui moglie no e questa è la causa esoterica del fatto che non lo sapevi e non lo sapevamo me l'ha scritto solo da poco e per virgolette era un po mammone cioè il fabbino ha fatto che era chiara padre stessa domanda cosa fa e se c'erano altre vite allora padre erano mi fa vedere una vita dove erano marito e moglie lui stefano era la moglie il padre era il marito e lavorava su delle navi e quindi non c'era mai lui è come se l'avesse riconosciuto questa lontananza mi dice mi fa vedere oggi sì chi c'era d'altri nel cinema e la fiamma due amici ragazzi più o meno possono aver la sua età tuoi amici stretti o cugini cosa fa la fiamma come la fiamma come in che senso fratello e sorella può essere due maschi però non fratello sì però sono due maschi anche la sorella non c'è no non viene è un po mascolina la sorella si può avere anche ok allora la sorella poscaiola anche lei avere la sorella ok come il papà va bene ma ecco alle stesse mani del papà e come se come la vedi la fiamma proprio esteticamente la capelli castani lisci più o meno fino alle spalle alle labbra abbastanza carnose questi sono due particolari molto occhi marroni si interessa di qualcosa di specifico dello specifico allora se la vedo è attratta da qualcosa che non conosce non vede è come se volesse approfondire come se avesse la sensazione che c'è qualcosa oltre rispetto a quello che si vede si tocca questa consapevolezza di lei allora provo ad escriverti quello che mi dice di sentire allora due cose ci sono una che è come se sentisse che là fuori c'è l'uomo giusto tra virgolette non si accontenta questa è una cosa l'altra è che è come se le avesse un po timore di come il suo essere la porta a fare perché è come se venisse trascinata e ma diciamo lo suo interno non è collegato con il suo pensiero mi dice quindi si sente trascinata a fare delle cose e ma non è dalla dalla sua volontà ecco è un po scossa da questa cosa ma ha visto cosa è successo attraverso quel vetro nella casa sì sì infatti allora visto tutto in eterico ha visto tutto e il risultato è che nel concreto lei si sente queste cose se si sente trascinata ok quindi sente che la è portata verso questa cosa questo c'è verso stefano e verso questo mondo ok ma non sa cos'è e quindi diciamo ecco c'è un po questo timore che non conosce non conosce messaggio di lui a lei imparerai a vedere chiaro di lei a lui ho timore ma voglio buttarmi mi butto e mi butterò che su tolto aspetti è quello che diceva lui no che non sa fate immagine e messaggio finale di stefano se stesso allora si sta allenando a passare da stefano fisico c'è nel corpo c'è fatto di forma di stefano ok si rotta su se stessa e diventa pure energia come rane come in casa la casa quella che abbiamo crea che ha creato ok e poi a ritornare stefano fisico e poi di nuovo l'energia della casa continua a fare questa questo perché agio che scopo allora corrisponde diciamo in eterico al passaggio del giù su down up down dell'onda se e lo fa c'è succede in pochissimo ma lui fa questo sposta i punti nelle rie le linee quindi diventa stefano corpo con il corpo e poi diventa energia sempre ma sono sempre linee c'è all'interno della casa enti è come se fosse l'energia come se fosse un viola un po scuro ok pieno quasi come se fossero costellazioni pieno proprio un unione di puntini e linee lui fa tu l'hai già conosciuto in altre vite elena idem io questa domanda io allora le immagini mi fa vedere eravamo noi tre c'erano altre due persone che lui conosce ma noi no eravamo in questo in cima a un monte e insieme tutti facciamo quello che lui fa adesso univano univamo tutto intorno c'erano tutti dei monti ok e mi fa vedere che tutti giravamo con le dita univamo e si vedevano proprio crea vamo le linee che univano i monti in quel momento lì dove canada immagine finale di stefano e con scusami prima facciamo il controllo della casa dei gatti uno ce l'ha dietro le spalle rosso è rimasto lì tutto il tempo non so se c'è ancora mi sono dissi se si è proprio nascosto dietro perché gli si è messo dietro la schiena secondo me ci ha seguito tutto il tempo seguiva il movimento energetico cosa sta facendo adesso lì sulla lo schienale del divano con gli occhi chiusi come fanno i gatti no allora lo vedo come se si prendesse la cocco le dell'energia mi viene da dirti sei proprio la pioggia di una cascata di energia ma sta tutto bene i gatti i gatti anche la casa è come se lui insieme alle piante facessero uno scudo perché le piante uno scambio di energia tra loro vedo ma piante vive o anche legno vive poi lui trasforma l'energia quando quando è legno lui trasforma come se lui riconosce la l'energia accumulata del legno di quando era viva e come se trattenesse legno trattenesse l'energia quella vitale di quando era vivo ok e stefano la trasforma la la uniforma anche all'esterno con le cose che fa va bene immagine finale di stefano abbiamo finito si è creato il suo cerchio in questo momento si sta muovendo ruotando nello spazio dentro un cerchio che si è creato corta prendo le gambe le braccia si è creato un cerchio e ruota col cerchio la sua casa creazione l'abbiamo potremmo farla sì cioè nel senso se potrebbe essere un buon guarda la tua adesso che la guardo ho sempre fatta la faccio da anni c'è c'entro da anni ma dalla mia la ps di stefano è sempre bolla blu che la p e riflesso rosa la ps adesso è mi dice onda d'attrazione della p rivoluzione va bene elena disconnetti ti da tutto e tutti e dimmi quando si è pronta ecco i conto da una 55 se al tempo presente 1 2 3 4 e 5 apri gli occhi tornata ciao come stai ciao benissimi stefano vai vai disattiva pure io sto sempre registrando disattiva pure il tuo microfono posso purtroppo non posso farlo io ok come stai va bene grande benissimo grazie di tutto fatto un bel viaggio cosa ci racconti eri lì con noi vero eri lì con noi e io si fatevolo dirti elena ci vediamo lì perché non è che io ho un bel collegamento con me cioè penso che non vado un'ipnosi per una questione sarà un blocco mentale o questa vita voglio fare l'altra esperienza quella di non vedere da lì ma da vedere da fuori ci hai provato non riesci ci ho provato ai tempi ci ho provato più volte ma non ci avevo fatto però di recente non ho provato perché comunque la mia idea era di affiancarmi ad elena quindi non non mi interessa riesce secondo me ci riesce ed è una bella spinta creativa però ha iniziato tre giorni fa a mettere un pezzo di stagnola su uno stuzzicadente perché lo perché io da bambino mi ricordo che volevo attirare gli oggetti a me cioè mi ricordavo questa cosa di dire le chiavi devono venire a me quando poi non funzionava e poi in questi giorni in cui c'è da quando ho prenotato la la sessione comunque sono state tre settimane full immersion in me stesso di consapevolezza cioè devo arrivare lì con già le cose chiare non che mi faccio vedere cose che in fondo so già a che tanto vale una perdita di tempo certo cosa ci vuoi dire che poi quando io dico abbiamo finito di registrare ci dici sono contento che avevo anche l'idea che noi ci fossimo già visti non l'ho voluto fare come domanda perché uno non mi sento presuntuoso 2 è rilevante e relativo ecco diciamo in un certo punto se esatto non è così fondamenti siamo conosciuti tutti e mi raccomando facci sapere a questo punto si erano volentieri come vanno le cose da quando avrò la compagna mi chiamo va bene e finisco la situazione grazie elena grazie stefano ciao a tutti grazie ciao ciao